I due decessi avvenuti a Ribera a distanza di poche ore potrebbero essere legati ad overdose, ipotesi al momento non confermata dalla Procura della Repubblica di Sciacca ma che circola insistentemente nelle ultime ore. Ora è concitate a Sciacca mentre arrivano i primi risultati dei tamponi molecolari effettuati su 54 soggetti che erano risultati positivi al test rapido. A sorpresa diversi sono risultati negativi e l'allarme tende a ridimensionarsi. Intanto questa mattina a fronte dell'allarme che si era generato il sindaco ha deciso di chiudere le scuole per tre giorni. Sarà effettuata una disinfestazione in tutti i presti delle scuole dell'infanzia, primaria e medie. I lavori sul ponte Canzalamone inizieranno entro il 2021 l'ha dichiarato al nostro telegiornale l'assessore regionale Marco Falcone. Un ricorso precisa sta rallentando l'iter per l'affidamento della progettazione dell'opera. Terme di Sciacca. Le associazioni Urabazza e Sciacca Terme rinasce hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti. Chiedono che vengano accertate le responsabilità delle scelte che hanno portato all'attuale degrado. Il consigliere Salvatore Monte difende la movida a Saccienze. Non si può continuare a colpevolizzare i giovani. Anche gli adulti dice che devono assumersi le loro responsabilità. Il sindaco promuova campagne di sensibilizzazione. Un cordiale benvenuto. Ben trovati su Telemonte Cronio. Per il consueto appuntamento con l'informazione. La cronaca in apertura è stata effettuata l'autopsia sui due giovani di Ribera, di 21 e 38 anni, ritrovati morti nelle scorse ore all'interno delle rispettive abitazioni. La procura della Repubblica di Sciacca mantiene sulla vicenda il più stretto riservo. Sembra tuttavia che i carabinieri stiano rivolgendo le proprie attenzioni sul mondo della droga. Non è da escludersi infatti che i due abbiano assunto stupefacenti e che la morte avvenuta a distanza di poche ore l'una dall'altra possa essere stata causata da una overdose. È stato smentito intanto ogni possibile collegamento tra questi casi e il decesso avvenuto in carcere ieri di un altro giovane riberese. Sono ore concitate quelle in corso a Sciacca, ore nelle quali l'esito dei tamponi molecolari analizzati dall'aspedia grigento smentisce i presunti casi positivi venuti fuori dai test rapidi dello scorso weekend nello spazio dello stadio Gurrera. Situazione che potrebbe essere sotto controllo dunque e che tende a ridimensionare ogni scenario allarmistico. Gli stessi numeri che emergono dai test effettuati da un laboratorio di analisi privato sono limitati. Naturalmente tutto questo non deve certamente indurre alcuno a rilassarsi perché il covid non è stato certamente sconfitto. Sentiamo Massimo D'Antoni. Sono già diversi i test molecolari effettuati per la conferma della positività dei 54 tamponi rapidi effettuati allo stadio Gurrera lo scorso fine settimana che tuttavia stanno via via risultando negativi. Un'attendibilità dunque che si conferma essere stata limitata, quella dei tamponi rapidi non rispondente peraltro nemmeno agli stessi dati che sono venuti fuori non solo negli altri comuni della provincia ma anche rispetto allo stesso giorno prima quando su 330 tamponi i casi positivi erano stati appena 5. Potrebbe ridimensionarsi dunque ogni allarme sulla reale portata della diffusione del contagio sul territorio Seccense ed è una conferma importante in tale direzione quella che proviene dalla titolare di un laboratorio privato di analisi cliniche. Dottoressa Segreto, negli ultimi giorni sono stati effettuati presso il suo laboratorio diverse verifiche, diversi test anti-coronavirus. Che tipo di risultati stanno dando? Ma guardi, io ho eseguito circa 200 test e su questi test ho riscontrato 4 casi positivi che ovviamente ho comunicato all'aspe e aspettano di essere confermati con il tampone molecolare. Quindi lei ha fatto i test rapidi? Io utilizzo i test rapidi, sì, questi antigenici che si sono utilizzati durante questi sondaggi, di questi screening. L'atteggiamento delle persone che si sottopongono a questo esame, qual è dal punto di vista proprio quasi, mi permetto di chiedergli, era psicologico? Allora, la gente è ovviamente molto preoccupata perché c'è stato questo boom domenica che ha riguardato questi 49, se non sbaglio, casi positivi. Chi vuoi, vuoi o non vuoi, chiunque è venuto a contatto con alcuni di questi soggetti è terrorizzato, si è recato qua nelle strutture facendo succedere anche un poco di confusione. Però io sono fiduciosa nel senso che mi auguro che molti di questi siano dei falsi positivi. Lei effettua anche i test sierologici, da quanto mi risulta. Ecco, sulla base di questo c'è attenzione anche da parte delle persone a capire qual è la loro condizione, ce lo conferma? Attualmente il test sierologico è stato completamente abbandonato perché con la nascita di questo tampone rapido, la gente non vuole aspettare ovviamente i 10-15 giorni di attesa per il sierologico e preferisce fare il tampone rapido che è una tempistica ridotta, teoricamente va fatto dopo i 5 giorni dal contagio. La situazione che viene fuori dunque appare confortante, ma questo non deve assolutamente indurre nessuno ad allentare la tensione e a illudersi che il Covid non ci sia più. Il Covid c'è ancora e come, la stessa dottoressa Segreto lo fa notare e le misure di prevenzione non devono essere assolutamente tralasciate. Intanto alla luce delle notizie degli ultimi giorni di diverse classi in isolamento in vari istituti saccensi, molte famiglie in questi giorni hanno deciso di non mandare i loro figli a scuola. Il Sindaco Valenti ha disposto la chiusura delle scuole per tre giorni per disinfestazione. Ce ne occupiamo del servizio. Rimarranno chiuse da domani a venerdì per una disinfestazione urgente le scuole di Sciacca, Materne, Elementari e Medie. Decisione assunta stamattina dal Sindaco Valenti in attesa che l'Aspera renda noto il reale andamento della curva epidemiologica in città. In questi tre giorni verrà fatta un'attività di disinfestazione a cura del comune in maniera tale da intanto fare un intervento utile perché in ogni caso si utilizzano questi prodotti disinfettanti ma abbiamo anche un margine che ci permetta di avere una situazione mi auguro più definita possibile e mi auguro anche più confortante rispetto ai primi dati. Questi tre giorni potrebbero servire a capire meglio quale sia la gravità della situazione. La stessa Francesca Valenti non esclude infatti che potrebbe ridimensionarsi dall'arma generata dai test rapidi di domenica scorsa dopo 54 casi positivi venuti fuori. C'è la possibilità che i tamponi risultati positivi al test rapido possano dare un esito diverso, più confortante ai test molecolari da quello che lei sa? Sì, mi è stato spiegato che questo può accadere, quindi io mi auguro che questi altri tamponi, che gli altri testi ci diano un risultato più confortante ma in ogni caso ci diano anche delle indicazioni più precise. In ogni caso il primo cittadino chiarisce la ragione per cui non ritiene di poter fare un'ordinanza di chiusura delle scuole. Qualcuno si domanda perché il sindaco ha bisogno di avere un'autorizzazione dall'ASP per decidere di chiudere o di mantenere aperte le scuole? Perché l'emergenza Covid ha una gestione centralizzata fondamentalmente e siccome è legata proprio ad un'emergenza epidemiologica, cioè il contagio da coronavirus il soggetto che può valutare l'entità del contagio e la curva di contagio è l'ASP, cioè la struttura sanitaria e in particolare il Dipartimento di Prevenzione. E perciò in tutte le indicazioni che vengono non c'è un'autonomia del sindaco in quanto la valutazione deve essere fatta dal Dipartimento di Prevenzione. Questo è indispensabile perché altrimenti un sindaco interrompe un pubblico servizio senza che ce ne siano adeguati motivi. Proprio per questo io chiedo che l'ASP ci dia indicazioni su come procedere e quindi su una valutazione della sospensione. Tanto più che lo stesso sindaco non condivide del tutto i timori dei genitori che in questi giorni preferiscono non mandare i figli a scuola, al momento a sciacca quasi tutti gli istituti scolastici, quelli autorizzati dall'ultimo DPCM a continuare a lavorare in presenza, si ritrovano infatti con classi in isolamento dove è stato necessario attivare la didattica a distanza per contagi che hanno riguardato docenti o alunni. No, io non sono d'accordo su questo perché io capisco l'ansia, però i genitori che mi hanno contattato ho detto noi genitori non ci possiamo far prendere dall'ansia. Se c'è l'isolamento di quelle classi che in qualche modo, in via del tutto prudenziale, sono state interessate da un possibile contagio, ma noi sappiamo pure che questo contagio in realtà non dovrebbe esserci perché ci sono i distanziamenti, le regole, le mascherine e quant'altro, dobbiamo anche ritenere che il resto dell'attività didattica nelle altre classi possa procedere tranquillamente. I protocolli sono chiari e prevedono la sospensione delle attività per singole classi, ciò non toglie naturalmente che le famiglie siano ugualmente preoccupate, ecco perché questa mattina tante scuole sono praticamente deserte e perché è evidente che se le scuole sono sicure è fuori dalle scuole che i comportamenti singoli rischiano di sfuggire ad ogni controllo. Caso risolto a Villa Franca Sicula dove per una settimana un cittadino veniva dato dall'ASP di Agrigento positivo al Covid-19 dopo che il tampone a cui si era sottoposto era stato certificato invece come negativo. Si è trattato di un caso di omonimia. Il soggetto positivo con lo stesso nome e cognome era residente in un altro comune. Accade anche questo in epoca di coronavirus. Abbiamo ricostruito la bizzarra vicenda con il sindaco Mimmo Balsamo. Vediamo. Un incredibile caso di omonimia ha tenuto sulle spine per diversi giorni una famiglia di Villa Franca Sicula. Un soggetto villafranchese infatti veniva dato dall'ASP di Agrigento positivo al Covid-19 nonostante il tampone a cui era stato sottoposto avesse dato invece esito negativo. Confusione che per carità di questi tempi può capitare dovuta all'omonimia con un'altra persona residente in un altro comune. Abbiamo ricostruito la bizzarra vicenda con il sindaco Mimmo Balsamo che dopo giorni di attesa ha ricevuto gli opportuni chiarimenti da parte dell'ASP che hanno risolto la situazione. Ad oggi dunque a Villa Franca non vi è alcun caso di Covid-19. Sindaco Balsamo, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria Covid-19 in corso come sta andando a Villa Franca Sicula? Diciamo che fino a sabato mattina andavano le cose benissimo perché era l'unico comune a non avere nessun caso di positività al Covid-19. Mentre sabato abbiamo avuto una comunicazione da parte dell'ASP di un caso positivo che poi entrosera siamo riusciti a capire che si trattava di un errore di persona anche se ad oggi l'ASP non ha comunicato ancora questa nuova situazione la persona con tutta la famiglia si trova a casa in isolamento e la cosa più grave è quella che ci sarà un'altra persona che si chiama come il nostro concittadino che gira tranquillamente e inconsapevolmente senza sapere di essere un positivo quindi c'è l'urgenza di andare a chiudere questa situazione andando a comunicare, a comunicarmi il cambiamento di questo nominativo e poi andare ad avvisare il vero positivo al Covid-19 di qualche altro paese Ma questo soggetto di Villafranca aveva effettuato il tampone? No, questo soggetto aveva effettuato un tampone in una città vicina dove era il risultato negativo ha la certificazione che è negativa e così via poi questa persona non ha fatto nessun altro tampone risulta invece all'ASP che abbia fatto un tampone in un paese oltre agrigento quel signore oltre agrigento non è andato mai in nessun posto non gli hanno fatto alcun tampone quel signore è rimasto a casa per altri motivi e quindi ci ritroviamo noi ad avere questa situazione e ripeto, Villafranca Sicola è stato fortunatamente e devo riconoscere anche il comportamento dei miei concittadini un paese dove finora siamo stati sereni e tranquilli per quanto riguarda le positività al Covid-19 speriamo anche per poter dare serenità a questa nostra famiglia che al più presto l'ASP possa comunicare l'errore che c'è stato 81 nuovi positivi, altri 10 ricoveri, 4 decessi, 8 guariti sono i numeri del Covid-19 in provincia di Agrigento certificati dall'ASP a Sciacca situazione stabile sono sempre 37 i casi vediamo sono 81 i nuovi casi positivi certificati dall'ASP di Agrigento nel bollettino diffuso ieri sera siamo ad 8 guariti, 10 ricoverati e 4 deceduti i soggetti attualmente positivi in provincia sono 1.274 458 i guariti 33 i deceduti degli attuali positivi 700 sono in trattamento domiciliare 83 sono invece ricoverati di questi poi 56 in ospedale nel dettaglio 30 sono i positivi ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento 4 al Barone Lombardo di Canicattì 2 al San Giacomo d'Alto Passo di Licata 13 al Giovanni Paolo II di Sciacca 2 a Caltanissetta 1 a Partinico 3 a Biancavilla e 1 a Corleone nell'RSA e struttura a bassa intensità di cura sono ricoverate altre 27 persone delle quali 13 alla Foresteria di Sciacca e 7 al Covid Hotel di Ribera nei comuni Sciacca mantiene una situazione stabile con 37 attuali positivi e 92 guariti a Ribera altri 3 soggetti positivi adesso sono 43 gli attuali contagiati un nuovo caso a Santa Margherita Belice un bambino di un anno come riferito ieri sera dal sindaco Valenti mentre a Sambuca di Sicilia l'ASP riferisce una guarigione per cui gli attuali positivi adesso sono 70 56 guariti e 12 le persone purtroppo decedute Sambuca ha pagato finora il prezzo più alto in termini di vita in questa seconda ondata di contagi stabile il dato di Montevago con 6 attuali positivi mentre a Cianciana c'è stato un nuovo caso i contagiati sono adesso 6 stessa cosa a Caltabellotta dove sono ora 9 gli attuali positivi e Menfi dove si registrano 11 casi un solo positivo a Lucca Sicula e a Villa Franca Sicula se la situazione si mantiene stabile in diversi comuni in altri centri i contagi sono aumentati è il caso ad esempio di Agrigento che con 6 nuovi positivi arriva a quota 63 ma altri 7 sono i contagi a Favara centro che conta 53 casi mentre sono 9 quelli in più a Canicattì comune che registra ad oggi 86 positivi altri 4 nuovi casi a Licato dove i contagiati attuali sono ora 77 a Caltabellotta due case di riposo gestite dal centro servizi sociali rissuti Caruso Sacro Cuore diventeranno residenze covid destinate a 36 soggetti positivi che non necessitano di cure ospedaliere lo aveva già annunciato al nostro telegiornale il commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia che adesso ha sottoscritto l'accordo con il legale rappresentante del centro Antonino Mistretta ce ne occupiamo in questo servizio Siglato l'accordo tra l'ASP e il centro servizi sociali rissuti Caruso Sacro Cuore di Caltabellotta due case di riposo gestite dal centro saranno utilizzate per ospitare temporaneamente 36 soggetti positivi al covid-19 che non necessitano di assistenza ospedaliera lo aveva già annunciato al nostro telegiornale il manager dell'ASP Mario Zappia durante l'ultima visita all'ospedale di Sciacca adesso l'accordo è stato ufficialmente sottoscritto tra il commissario straordinario e il legale rappresentante del centro Antonino Mistretta l'accordo durerà un anno le due strutture residenziali concesse in comodato d'uso gratuito si trovano in via Roma al numero 27 e in via Colonnello Vita al numero 16 l'ASP si assume l'impegno ad eseguire a proprie spese gli interventi di manutenzione ordinaria necessari all'utilizzo immediato dei 24 posti letto disponibili nell'immobile di via Roma e dei 12 posti letto disponibili nella sede di via Colonnello Vita la casa di riposo Rizzuti Sacro Cuore di Caltabellotta si trovava in difficoltà economica da tempo da anni i nove dipendenti dell'istituto non hanno visto un centesimo dal 2017 il centro è sottoposto a commissariamento disposto dalla regione siciliana con un disavanzo accumulato che ha toccato la cifra non indifferente di 800 mila euro un ente il Rizzuti Sacro Cuore che per numerosi anni per la stessa comunità di Caltabellotta è stato una vera e propria istituzione ricoprendo un ruolo fondamentale sul piano sociale ed anche occupazionale funzionava il Rizzuti Sacro Cuore grazie ai contributi regionali che negli anni più recenti sono diminuiti fino all'irrimediabile azzeramento adesso si è aperta questa nuova prospettiva un'opportunità di lavoro per i dipendenti e di cura per gli affetti da Covid-19 che non avendo bisogno di cure ospedaliere possono essere assistiti nella struttura vi adotto Canzalamone lavori al porto di Sciacca ne abbiamo parlato ieri con l'assessore regionale al ramo Marco Falcone in visita in diversi comuni della provincia di Agrigento i lavori sul ponte Canzalamone cominceranno entro il 2021 un ricorso inerente all'affidamento della progettazione sta rallentando l'iter ha detto l'esponente del governo Musumeci che poi conferma il prossimo avvio degli interventi anche al porto stiamo lavorando al progetto per il raddoppio della carreggiata sulla statale 115 da Castelvetrano a Gela ha dichiarato ai nostri microfoni sentiamo vi adotto Canzalamone e lavori al porto di Sciacca ne abbiamo parlato con l'assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità Marco Falcone ieri pomeriggio in visita in provincia di Agrigento per incontrare diversi sindaci del territorio per quanto riguarda il ponte sul Canzalamone chiuso da oltre sei anni un ricorso starebbe rallentando l'iter burocratico una chiusura che come si ricorderà ha messo particolarmente in crisi non soltanto la viabilità in entrata e in uscita da Sciacca ma numerose attività commerciali della zona tempi più veloci invece si prevedono per l'avvio dei lavori al porto di Sciacca che cambieranno la fisionomia di Gaia di Garaffe e della banchina San Pietro mentre per il futuro l'esponente del governo musumeci da quanto si apprende sta lavorando alla possibilità del raddoppio della carreggiata sulla strada statale 115 guardi sul vedotto Canzalamone era stata fatta l'anno scorso noi facciamo un sopralluogo e prendemmo un impegno che era quello di metterlo di sistemarlo queste campate che sono in una condizione di degrado di rischio crollo è stata fatta la gara per la progettazione purtroppo c'è stato un ricorso giorno 16 novembre prossimo il ricorso si definirà e vedremo se la società di progettazione aggiudicataria potrà continuare o se dovrà essere sostituita dal secondo dalla seconda in gradatoria dopodiché hanno 90 giorni per fare il progetto quindi ci sarà la conferenza di servizio le approvazioni e la gara e entro il 2021 riteniamo che inizieranno i lavori per quanto riguarda il porto di Sciacca invece i lavori ancora non sono cominciati no i lavori sono cominciati nel senso che stanno costruendo ora i cassoni stanno costruendo abbiamo fatto le indagini di bonifica le indagini appunto batimetriche sono state fatte tutte le attività propedeutiche già nei prossimi giorni il candiere si sta sarà come dire i luoghi saranno candierizzati e il candiere si vedrà efficiente appunto nel suo avvio di attività un'ultima battuta per quanto riguarda la provincia di Agrigento qual è il progetto a cui lei tiene di più? Guardi sulla provincia di Agrigento ci sono sicuramente tanti progetti ma il più importante è quella che io chiamo la Mediterranea la 115 il raddoppio di carreggiata della strada che porta da Gela sino ad Agrigento per poi arrivare a Castelvetrano è la strada più importante oltre che alla definizione appunto delle due opere che attualmente sono ancora incomplete che è l'Agrigento Palermo e l'Agrigento Caltanissetta dobbiamo definire questi lavori perché dalla viabilità vi è anche lo sviluppo del territorio in più abbiamo sicuramente altri interventi che stiamo mettendo in campo e che nei prossimi mesi vedranno appunto la loro anche l'inizio hanno deciso di rivolgersi alla procura regionale della Corte dei Conti le associazioni Ora Basta e Sciacca Terme rinasce promotrici dell'esposto presentato alla magistratura affinché vengano accertate le responsabilità del degrado in cui versano le strutture un esposto in cui vengono ricostruiti gli ultimi anni di un percorso triste e doloroso caratterizzato da scelte e decisioni scellerate che ha poi portato alla chiusura delle terme con conseguenti danni alle strutture all'economia del territorio all'immagine della città e al prezioso bacino idrotermale Noemi Tummiolo Accertare le responsabilità del degrado in cui versano le strutture termali di Sciacca un degrado che di fatto rischia di non rendere ormai per nulla appetibile il patrimonio agli occhi di imprenditori privati compromettendo in tal modo ogni speranza di apertura questo è l'obiettivo dell'esposto che le associazioni Ora Basta presiedute dall'avvocato Ignazio Messina e Sciacca Terme Rinasce presiedute dal professore Carmelo Schumet hanno deciso di presentare alla procura regionale della Corte dei Conti di Palermo otto pagine di esposto per denunciare i fatti che hanno portato all'abbandono delle strutture e al danno che la risorsa termale ha subito negli anni soprattutto dopo la chiusura disposta cinque anni e mezzo fa dal governo di Rosario Crocetta Per le due associazioni se la risorsa termale di Sciacca si trova in queste condizioni con tutti gli impianti e gli immobili ormai compromessi e seriamente danneggiati occorre individuare i responsabili L'associazione Ora Basta insieme all'associazione Sciacca Terme ha messo appunto un esposto dettagliato con tutte le vicende che riguardano le terme voglio ricordare dal 2007 quindi 13 anni di liquidazione e nulla è stato liquidato se non distrutto cinque anni di fermo porte chiuse e non accade assolutamente niente noi riteniamo che ci debbano essere dei responsabili e abbiamo chiesto alla magistratura di accertare se queste responsabilità ci sono vedete si parla di bandi si parla di tutto ma più si distrugge il patrimonio più sarà difficile poter trovare qualcuno che li gestisca immaginiamo se noi vogliamo affittare una casa e chiediamo a chi ce la deve affittare vogliamo che tutto sia perfetto non vogliamo che tutto sia distrutto perché se no noi lo affittiamo e quindi qui o si fa la manutenzione e ci sono dei responsabili il proprietario della regione il proprietario del comune c'è comunque un liquidatore che deve provvedere alla manutenzione se non lo fa deve rivolgersi alla proprietà per dirgli guarda bisogna manutenzionare ecco il tema il tema è che nessuno fa niente in attesa di un ipotetico bando che ovviamente va sempre deserto e così le nostre terme si distruggono e soprattutto si distrugge l'economia di sciacca i nostri giovani che vanno via i nostri alberghi fermi e le strutture ricettive abbandonate ma voi invito a riflettere i cittadini ma conoscete un'altra località turistica nel mondo che abbia le stufe a San Calogero le terme e le acque tre alberghi le piscine e molinelli l'ex convento San Francesco è tutto abbandonato io credo che sia da criminali abbandonare un patrimonio di questo tipo soprattutto in un momento di grande difficoltà economica come quella in cui stiamo vivendo perché se c'è una possibilità di ripartire è proprio da qui e allora noi abbiamo deciso di dire basta alle chiacchiere basta alle riunioni che non portano a nulla ma dobbiamo incidere su quelli che sono le sedi decisionali e quindi attraverso la magistratura che ha certe responsabilità e costringa chi è responsabile a provvedere a intervenire una volta per tutte vedrete che se la magistratura parte ha certa responsabilità i soldi ritroveranno per manutenzionare e allora si potrà andare avanti abbiamo visto che c'è una certa calma un certo rilassamento totale per quanto riguarda la vicenda della riapertura delle terme già da molti anni abbiamo assistito che hanno chiuso definitivamente con un degrado e un vandalismo unico per cui con questa iniziativa dell'esposto alla Corte dei Conti abbiamo cercato di buttare un famoso sasso in uno stagno per far muovere un poco le acque perché noi vogliamo sapere chi sono i responsabili di questo degrado addirittura abbiamo saputo che c'è stato un finanziamento del Ministero del Turismo di 500 mila euro ma non sanno a chi erogarlo perché c'è una confusione totale non si sa chi è il proprietario di queste terme di questo parco da un lato c'è la regione che è proprietaria dall'altro lato c'è una liquidazione da fare dall'altra parte c'è un comune che ha avuto in concessione poi non si capisce se questa concessione funziona non funziona il giardino di chi è non si può ottenere nemmeno il finanziamento perché non si capisce se è della regione o del comune dicono che c'è un finanziamento vedete è tutto completamente confuso e in questo stato confusionale in cui vivono le terme di Sciacca secondo voi c'è una possibilità di rinascita io credo che c'è la possibilità di distruzione totale e per esperienza che tutti abbiamo fatto nella nostra Sicilia più degradi più è facile che le cose vadano male e chi arriva dopo non saranno i grandi imprenditori che possono rilanciare il nome di Sciacca ma i piccoli imprenditori che potranno distruggere definitivamente Sciacca e piccoli lo metto tra virgolette perché non ce l'ho chiaramente con i piccoli imprenditori ma i piccoli intendo in altro senso questi rischi noi dobbiamo togliere ma proprio per questo bisogna intervenire siccome non interviene nessuno e stiamo andando avanti ripeto i tempi sono 13 anni di liquidazione 5 anni di blocco e ancora discutiamo bando si bando no come lo facciamo non lo facciamo non può funzionare così o dai una spinta vera o questo patrimonio si perde tutto e noi non ci stiamo non scarichiamo solo sui ragazzi le colpe della Movida questa è l'opinione di Salvatore Monte sulle recenti polemiche circa taluni comportamenti irresponsabili il consigliere comunale chiede l'attivazione di campagne di sensibilizzazione intanto il centro-destra oggi polemizza con il sindaco Valenti che in un'intervista ha dichiarato di non ritenere più legittimato il consiglio comunale sentiamo a generare l'ultimo caso sbelli è stata Francesca Valenti che in un'intervista ha detto che sostanzialmente la commissione consigliare sanità appartenendo di un consiglio comunale tuttora sospeso non sarebbe più legittimata è su questo che oggi interviene il centro-destra che in una nota firmata da Pasquale Bentivegna Calogero Bono Silvio Caracappa Gaetano Cognata Lorenzo Maglienti Giuseppe Miglioti Salvatore Monte Carmela Sant'Angelo e l'indipendente Cinzia Deliberto fa notare come ad oggi l'organismo non sia ancora stato sciolto evidenziano dunque di essere tuttora in carica seppur non nel pieno delle proprie funzioni perché non c'è ancora il decreto del Presidente della Regione che proclama lo scioglimento del Consiglio Comunale quindi se in questo momento c'è soltanto la sospensione è vero che i consiglieri comunali non sono nel pieno delle loro funzioni però sono ancora consiglieri comunali diciamo attivi quindi non c'è stato lo scioglimento il Consiglio Comunale comunque si può esprimere e quindi i consiglieri anche se hanno fatto parte di commissioni consigliari che oggi non sono più attive credo abbiano tutto il diritto dovere di poter dire la propria opinione ed evitare di aumentare questo divario tra l'amministrazione la politica locale i consiglieri comunali perché stiamo peggiorando secondo me le cose ricordano poi i consiglieri comunali che la bocciatura del Consuntivo non ha avverto le porte ad alcuna monarchia e che l'assenza della poltrona non li limiterà in quella che dicono sarà una costante attività politica e di continua ispezione con Salvatore Monti abbiamo poi parlato della situazione emersa dall'esito dei tamponi rapidi effettuati lo scorso weekend allo stadio l'opinione è che questo è il momento per veramente fare squadra e stare assolutamente attenti però chiedo al contempo all'amministrazione di essere più attiva nella comunicazione cioè di coinvolgere la città nelle decisioni perché credo che in questo momento soprattutto a livello scolastico ci sia molta confusione quindi chiedo al sindaco alla sessuale pubblica istruzione di essere maggiormente attenti è un momento in cui come la fai puoi sbagliare me ne rendo conto però non bisogna lasciare ognuno al proprio destino perché qui ci sono responsabili dei genitori rappresentanti delle classi dirigenti scolastici lasciati in attesa di giudizio quindi sarebbe opportuno coordinare un po' meglio il lavoro e rendere così questa situazione particolarmente grave un po' più leggera infine Monte difende i giovani dalle polemiche sugli assembramenti nei luoghi della Movida l'opinione è che non dobbiamo scaricare tutte le colpe esclusivamente ai ragazzi occorre buonsenso occorre buonsenso nei ragazzi occorre buonsenso noi un po' più adulti occorre buonsenso nelle persone ancora più adulte utilizzare la mascherina diventa fondamentale e soprattutto però dico bisogna anche fare un po' di opera di come dire in questi casi si parla di campagne utili a far capire alle persone quali sono gli atteggiamenti opportuni credo che sotto questo punto di vista anche il consiglio comunale si era espresso e si era parlato anche di una campagna mediatica opportuna che ad oggi poi non si è fatta però dico una cosa i ragazzi hanno le loro colpe però va detto anche che va ulteriormente ebbe passato il messaggio a questi ragazzi ragazzi che sono privi da un anno della loro vita della loro ovviamente fascia d'età che potrebbe vivere di tutt'altro trascorrere il tempo con gli amici oggi sono ovviamente ovattati e mi rendo conto che è complicato però anche a loro va fatto capire non scusate l'espressione semplicemente con le cazziate ma col modo di fare un po' più gentile che potrebbe servire a fargli comprendere che la situazione è grave e che c'è bisogno anche del loro aiuto Gli ex residenti di alloggi popolare di largo dei martiri di via Fania a Ribera non percepiscono il contributo affitto mensile anticipato dal comune ormai da due mesi e mezzo quasi e cioè dai primi di settembre sulla vicenda tornano i consiglieri comunali di opposizione più volte intervenuti nei confronti della nuova amministrazione che per domani mattina hanno deciso di autoconvocarsi al comune per incontrare il sindaco Matteo Rubolo e da avere chiarimenti e risposte sentiamo non mollano i consiglieri comunali di opposizione a Ribera sulla vicenda della mancata erogazione dei contributi alle 60 famiglie degli alloggi popolari di largo dei martiri di via Fani quelle che nel 2012 hanno dovuto abbandonare le loro case a seguito di ordinanza di sgombero e che in questi anni hanno usufruito di un contributo mensile anticipato dal comune per sostenere le spese per l'affitto delle abitazioni in cui risiedono in attesa di potere tornare nei nuovi alloggi quando saranno ultimati i lavori per domani mattina i consiglieri Paolo Caternicchia Nicola Inglese Aurora Liberto Alfredo Mulè Federica Mulè e Giovanni Tortorici hanno deciso di autoconvocarsi alle 10.30 a Palazzo di Città nella nota con cui oggi annunciano la loro iniziativa ribadiscono una posizione espressa più volte in queste settimane e cioè che con l'insediamento dell'attuale sindaco e della nuova amministrazione a loro dire la questione dei contributi agli ex residenti degli alloggi di Largo dei Martiri di Viafani sembra aver assunto un carattere grottesco se non fosse per la sua serietà e drammaticità in pratica le 60 famiglie interessate non percepiscono ormai il contributo dagli inizi di settembre la vicenda è stata al centro di reiterate richieste di informazioni rivolte al sindaco da parte degli interessati rimaste ancora ad oggi senza alcuna risposta così come le due interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza fa notare oggi l'opposizione la quale ritiene che stia venendo meno l'unica certezza che queste famiglie avevano e hanno avuto in questi anni certezza rappresentata dall'ente comune di Ribera dunque al fine di ottenere risposte certe immediate e confortanti per gli interessati e fugare ogni dubbio circa voci insistenti di decurtazioni e tagli del contributo i consiglieri di minoranza hanno deciso di autoconvocarsi presso la sala dei sindaci del municipio per la giornata di domani per incontrare il sindaco e l'amministrazione comunale fanno sapere anche che sarà presente una piccola rappresentanza delle 60 famiglie nel pieno rispetto delle normative anti-covid il sindaco di Sciacca Francesca Valente è stata confermata componente della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica la sua elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell'assemblea dei sindaci convocata in modalità videoconferenza dal commissario straordinario del libero consorzio comunale di Agrigento Girolamo Alberto di Pisa l'assemblea si è riunita per eleggere sette nuovi componenti della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica gli eletti sono risultati i sindaci di Sciacca Ribera Sambuca di Sicilia Cattolica Eraclea Castel Termini Cammarata Bivona il sindaco di Agrigento è componente di diritto quasi 3 milioni di euro di finanziamenti per sistemare la viabilità provinciale dell'area montana e rendere più facilmente raggiungibili le comunità di Luccasicola Burgio Villa Franca e Bivona ad ufficializzare questi progetti l'assessore regionale Marco Falcone che ha incontrato i sindaci del territorio i lavori cominceranno a gennaio 2021 sentiamo prenderanno presto il via i lavori per migliorare il reticolo stradale dell'area montana della provincia di Agrigento ad ufficializzare progetti e finanziamenti l'assessore regionale al ramo Marco Falcone che ieri pomeriggio a Luccasicola ha incontrato tutti i sindaci del territorio interessati da questi interventi in particolare gli investimenti strutturali con progetti esecutivi e finanziati riguardano diverse strade provinciali tra cui la tratta Luccasicola a Burgio la Luccasicola a Villa Francasicola la Luccasicola a Portella di Sciacca le strade provinciali 48 e 88 e infine la strada provinciale 32 Ribera Cianciana l'assessore Falcone si interviene finalmente su queste strade dell'area montana interventi attesi da tanto tempo ma oggi la presenza del governo musumeci a Luccasicola ma anche a Burgio fra qualche istante e prima ancora a Camarata poi ci sposteremo a Ribera e quindi ad Agrigento serve per prendere atto delle condizioni del reticolo stradale provinciale per fare ulteriori interventi rispetto a quelli che sono stati fatti ma anche per raccogliere le aspettative e le esigenze dei sindaci e dei territori siamo qua a Luccasicola col sindaco Dazzo proprio perché vogliamo ascoltare e vogliamo ulteriormente confermare impegni che abbiamo già preso e che abbiamo attuato e anche dare ulteriore risposte a questo territorio che merita particolare attenzione se non altro perché si trova in un contesto orografico abbastanza complesso venendo qua abbiamo percorso la SP24 per la quale abbiamo finanziato già 600 mila euro mi si dice che il libero consorzio di Agrigento ha anche avviato la gara abbiamo la SP35 da sistemare da finanziare sulla quale anche il libero consorzio pare avesse fatto qualche intervento noi dobbiamo incrementare dobbiamo fare altre cose poi ci sposteremo ancora di più verso altre parti dell'Agrigentino insomma abbiamo anche voluto qua invitare il commissario e il direttore generale dell'IACP di Agrigento perché anche sotto un profilo di edilizia popolare è giusto che il governo Musumeci dia delle risposte al territorio il vertice si è tenuto presso il palazzo Locascio a fare gli onori di casa il sindaco di Lucca Sicola Salvatore Dazzo che ha seguito da vicino tutti i progetti e l'iter l'oggetto riguarda la viabilità la viabilità che è un tema che l'amministrazione da me guidata subito presa a cuore faceva parte del programma elettorale ma che è stata condivisa da tutti gli altri sindaci quindi è stato un oggetto che riguarda l'intero territorio si parla di progetti per quasi 3 milioni di euro su quali strade si interverrà? sì all'incirca sui 3 milioni di euro voglio precisare intanto che abbiamo rappresentato al governo regionale nella persona dell'assessore alle infrastrutture Marco Falcone le condizioni in cui versano le nostre strade provinciali e ripristinare mettere in sicurezza le tratte stradali significa e si traduce in garantire il diritto alla vita ai nostri concittadini anche perché in alcune tratte sono verificanti anche dei sinistri mortali significa garantire diritto allo studio per i nostri studenti che possono raggiungere facilmente gli istituti superiori che si trovano a Sciacca, Ribera e ad Agrigento significa anche favorire il turismo gli scambi commerciali e quindi è a vantaggio dell'intero territorio di quali strade si tratta nel dettaglio? Innanzitutto la strada provinciale le strade provinciali 47 e 88 che sono conosciute come Contrada Piano Monaco che collegano il territorio con la strada statale 115 che è un'arteria importante e fondamentale e poi le strade provinciali che collegano Luccasicula Burgio Luccasicula Villa Francasicula Luccasicula Portella di Sciacca e la tratta Cianciana Ribera è il momento dei libri con i consigli della Mondadori vediamo non è ciò che stai osservando ma da dove lo stai guardando a determinare cosa vedrai da quando la morte di suo figlio ha scosso lui e la moglie Alex avvocatessa Adam Fowell ispettore della polizia di Thames Wallet con sede ad Oxford sa che tutto è possibile e ormai poche cose riescono davvero a sconvolgerlo non si può nemmeno dire lo stesso per gli abitanti di una strada silenziosa ed elegante di Oxford dove per puro caso alcuni operai fanno una scoperta terribile una ragazza in evidente stato di shock rimasta per molto tempo prigioniera con il suo bambino di due anni nel seminterrato della casa del professor William Harper ma per Fowell e la sua squadra non è così semplice trarre conclusioni William Harper infatti non solo è molto anziano ma anche malato di Alzheimer difficile credere a quello che dice difficile pensare che possa aver tenuto prigioniera con la forza una ragazza sicuramente più in forma di lui è difficile fidarsi dei suoi ricordi le cose non faranno che complicarsi quando nel giardino di Harper viene trovato anche il corpo di Anna una donna scomparsa alcuni anni prima un caso che aveva destato molto scalpore perché quella di Anna era una famiglia apparentemente perfetta per Adam Fowell e i suoi agenti è il momento di vederci chiaro l'ispettore capirà che la verità sceglie sempre il modo più tortuoso per farsi avanti anche quando in realtà è sempre stata ben evidente bastava solo guardarla dalla giusta angolazione dentro il buio di Cara Hunter edito PM è tutto la nostra informazione si ferma qui al momento per tornare puntuale nelle prossime edizioni con tutti gli aggiornamenti grazie per essere stati con noi arrivederci a presto a presto